Il campionato morto e sepolto a dicembre Che tristezza ragazzi, che tristezza Cioè allora, da un lato ripeto, sono contento perché io ieri sera tra le due speravo più che vincesse la Juve Per ovvi motivi di classifica Però cazzo, c'è un altro aspetto che devo considerare E che cazzarola, il campionato a dicembre non c'è più Non c'è più, cioè non ha più senso parlare del primo posto Per carità, lo sapevamo tutti fin dall'inizio che la Juventus avrebbe fatto un campionato a parte quest'anno E non nel senso che intendeva Totti in una famosa intervista di qualche anno fa Però si sperava comunque che qualche partita quella potessero anche non vincerla Cioè invece 14 vittorie, un pareggio Vincono con tutti Che dire Complimenti Che poi tra l'altro l'Inter ieri sera secondo me non se l'è giocata neanche male C'è la partita L'Inter paradossalmente ha fatto molto meglio, secondo me Di quello che ha fatto il Milan a San Siro Cioè il Milan a San Siro fondamentalmente ha subito per 90 minuti Ha contenuto per 90 minuti E a parte il rigore Qualche tiro da lontano, grosse occasioni non ne ha avute L'Inter invece ieri sera quelle 3-4 occasioni in cui avrebbe potuto fondamentalmente far girare la gara Le ha avute Chiaramente il palo di Gagliardini è la palla più clamorosa della partita E lì se non segni purtroppo è finita Purtroppo per loro è finita Non lo so, ormai la Juve è arrivata a un punto in cui Cioè hai quelle 2-3 palle goal che ti concedono nell'arco di una partita Le devi sfruttare E se non le sfrutti rischi Rischi e spesso e volentieri la perdi Io auspico davvero che il Milan abbia capito effettivamente qual è la via da seguire Perché ragazzi a me sta bene tutto Ripeto perché il Milan City fa prescindere sempre e comunque Però dobbiamo anche capire che allo stato attuale c'è un gap grosso Grosso e soprattutto difficile da colmare E per colmare questo gap purtroppo a lungo andare non basterà il cuore incredibile Che ci stanno mettendo i ragazzi fino ad ora in questo campionato Ma servirà qualità Servirà gente di enorme qualità Per da inserire costantemente nel tempo Perché al momento purtroppo duole dirlo Ma questi fanno un altro sport rispetto a tutti gli altri in Italia Prendiamo il lato positivo Prendiamo il lato positivo E speriamo a questo punto che il Milan mantenga il quarto posto da qui a domenica E perché no a questo punto avvicinarsi anche un po' all'Inter Visto che le distanze si sono assottigliate in maniera drastica Boh Speriamo bene Ragazzi buona immacolata Buon weekend a tutti Perdonate per la presenza della mia ombra dietro Però ho voluto fare il video con questa location nuova Buon weekend a tutti Noi ci risentiamo domani sera Per il post partita di Milan-Torino E speriamo bene Cazzarola Speriamo bene